LIC! Ben ritrovati i miei cari avventuri dell'Uisona Bar Calcio in primis oggi 3 ottobre è il compleanno del Bologna il Bologna compie 114 anni Mossor Bolina se li porta bene il Bologna, hai capito? Arrivarsi a quell'età e portarli così bene, ok? Ok, esatto, quindi compleanno del Bologna, quindi tanti auguri a noi, no? Perché se è il compleanno della nostra maglia è il compleanno anche di noi tutti Oggi è stata presentata tra l'altro sul sito anche la terza maglia del Bologna che ho visto ha delle particolarità, non so come vengono chiamate in termine digitale ma c'ha tutte quelle, come si chiamano, quelle parabole, non so se non sono le parabole vabbè insomma ci siamo capiti, se la volete vedere andate sul sito e la vedete adesso mi riservo di vederla da più vicino ma sembra intrigante detto questo ho ascoltato ieri sul Dazon verso l'una di notte penso, no, forse un po' prima, dai mezzanotte ma si è poi portato verso l'una di notte la compilation VAR, ok? che adesso Dazon mette su ogni lunedì sera dove c'è Rocchi, Compardo e compagnia belle cantante che analizzano quanto fatto nelle scorse puntate dalla categoria arbitri per andare a vedere che cose si sono detti dietro le quinte e come terza partita analizzata ieri sera è spuntato l'audio di Monza Bologna l'audio di Monza Bologna sul gol annullato da Fergus, gol di Ferguson annullato da parte di Pezzuto e della VAR ora, dico in sumite il Rocchi Pensiero Rocchi loda l'operato di Pezzuto perché a quanto pare ha fatto benissimo dice ad aspettare di fischiare il fallo perché così consente alla VAR di poter intervenire laddove avesse fischiato prima la VAR nulla avrebbe potuto ok, detto questo, la VAR dunque poteva intervenire ma i varisti, che adesso mi sfuggono i nomi ma so che voi siete abilissimi e qualche d'uno sicuramente li riporterà qua sotto con annessa e connessa critica costruttiva ok, sicuramente nei loro confronti, tra parentesi trattenetevi ok, comunque i varisti hanno analizzato la situazione e nel giro di 20 secondi hanno ravvisato il fallo che aveva ravvisato Pezzuto ok, durante il gioco, ossia che Zirkze con all'altezza del ginocchio dell'avversario spostandolo avesse commesso fallo prima appunto di andare sul pallone e dunque secondo i varisti hanno avallato la decisione di Pezzuto e così hanno lasciato correre, non dunque correggendo e convalidando il gol questo, diciamo, la cronistore di quanto è accaduto e Rocchi dice subito la prima cosa che ha detto è per noi quello è un gol regolare ecco, io qua l'avrei già affermato perché se c'è una cosa che mi suona quasi di prese per il culo è proprio questa c'è Pezzuto e siamo una testa dice fallo e non è gol ci sono due varisti, non uno due varisti che insieme a Pezzuto uno, due, tre non so se state seguendo il mio ragionamento spero di sì eventualmente fatemi sapere se vi sfugge qualcosa Pezzuto, una testa i due varisti, due teste e in tre teste in tre teste hanno ravvisato fallo e dunque è giusto non convalidare il gol poi si torna in studio si va da Rocchi che è il capo degli arbitri almeno questo ad oggi e lui dice per noi è regolare attenzione, attenzione cosa significa per voi è regolare? per te tu devi dire per me è regolare non puoi dire per noi perché io ho capito e so che lui per noi intende per noi classe arbitrale perché siamo una cosa unica però caro mio Rocchi perdonami se in tre teste uno può sbagliare mettiamo che l'arbitro in campo avesse bisogno di un ausilio ci può stare però ok l'arbitro non ha lo secondo deve prendere una decisione ci può stare che possa sbagliarla però ragazzo mio Rocchi voi noi essi loro decidiamoci io tu egli essi vostro nostro signore come si può in tre in tre in tre aver sbagliato e poi sentire Rocchi dire per noi il gol è regolare ma ci stai prendendo per il culo? non so per noi chi? no perché allora a questo punto devi specificare per noi chi? perché finora vi siete pronunciati in quattro ok? in quella famosa squadra arbitrale in tre hanno detto che era irregolare e poi c'è Rocchi che dice per noi è regolare c'è qualcosa c'è qualquadra che non cosa in questo vostro signore insomma io ravviso ravviso qualcosa che non mi non mi torna per noi è regolare parla ben per te Rocchi per te è stato regolare perché la tua squadra almeno in tre in tre pezzi della tua squadra visto che c'è proprio pezzuto e le altre due teste quelle pezzuto e le altre due teste in tutto tre hanno detto hanno detto irregolare quindi insomma questa è già una cosa che mi stride però poi dice e si sofferma è stata fatta l'analisi tutto comunque la procedura è corretta e poi ha fatto quasi capire perché poi in studio c'era qualche d'uno che adesso mi sfuggi il nome che ha giustamente sottolineato come il Bologna non solo quest'anno che è una cosa plateale incredibile perché ha ricordato solamente quello della Juve ma si poteva anche ricordare qualcos'altro ma ha detto il Bologna quest'anno ma anche negli anni scorsi è un pochino tartassato e aggiunge giustamente non c'è sicuramente un disegno contro io questo sono il primo a dirlo non è un disegno contro di noi però è una cosa oggettiva e lì ci sente Rocchi che dice non sono d'accordo con la disamina come prendere le distanze poi non si sa esattamente da che cosa perché lui il primo che ha detto non esserci un disegno contro allora mi viene quasi da pensare che c'è un disegno contro visto che Rocchi prende le distanze da quanto ha detto il Signore o forse non è d'accordo sul fatto che il Bologna abbia avuto appunto dei torti arbitrali concatenati non lo so io adesso mi fermo a quest'anno perché poi sai la memoria purtroppo nel calcio è breve figuriamoci ormai qui dell'anno scorso non me le ricordo io figuriamoci se Rocchi ieri si ricordava i danni subiti l'anno scorso dal Bologna eventualmente dai però insomma quest'anno è fuori dubbio che sia così quindi prendi le distanze da che cosa e sembra quasi che abbia voluto concludere dicendo e anzi l'ha detto non sembra l'ha detto che in epoca di Novar questa roba qui sarebbe anche passata sotto traccia nel senso che sai di quanti di questi in passato ce ne sono stati non si vedeva si correva non ci si soffermava e la mente del tifoso se lo dimenticava oggi invece ha fatto capire figli di questa var porca miseria ci hanno messo la lente di incrandimento ed effettivamente è stato combinato un po' a pochio ma tuttavia su via e sembra quasi che l'abbia fatto passare come un errore che ci poteva stare in quanto difficile il problema è che in epoca Novar poteva valere quello ma in epoca di Vare è molto grave che noi si sbagli visto che lui dice noi plurale maiestatis noi ci siamo per noi è corretto no non può essere corretto perché tre dei tuoi hanno detto che era irregolare quindi questa squadra è un attimino da cementare perché non si capisce bene se alcuni o anche i più di questi a questo punto conoscano le regole del gioco calcio detto questo io mi taccio non voglio più tornare l'ho già fatto ampiamente in questo video in realtà non volevo neanche parlare così ampiamente di questo ma è venuto fuori era ieri che mentre guardavo la trasmissione ho visto questo teatrino e un attimo un attimo sono andato in ebollizione comunque mi taccio basta basta mi taccio adesso abbiamo la prossima partita a Milano con l'Inter ci arriviamo con mi pare stavo cercando la notizia ma mi pareva di aver letto la seconda miglior difesa in Europa se ho capito bene non lo so o in Italia comunque in Italia è sicuro e per questo forse addirittura in Europa siamo tra le migliori difese in Europa comunque su una mano siamo tra i migliori in Italia sicuramente siamo la miglior difesa sintomo e simbolo che comunque Tiago Motta qualcosa di buono lo sta facendo poi certo a discapito magari di una manovra offensiva che è ancora un pochino stenta e latita ma che comunque contro l'Empoli la manovra offensiva ha dato risposta e ovviamente dal punto di vista della concretezza si può fare meglio ma comunque tre gnocchi le abbiamo fatti zero ne abbiamo subiti e fin tanto quanto si recita questo tabellino per me è proprio un lavoro fatto a modino adesso stiamo a vedere quello che combiniamo a Milano con l'Inter tenuto conto anche che insomma avremo di fronte la migliore compagine italiana senza ombra di dubbio che però deve giocare proprio stasera penso in Champions League o al Benfica qualche energie perderà e noi dovremo essere abili e forti ad approfittare di questo adesso vedremo come ci arriviamo se recupererà Tiago Motta qualche uno dei nostri ok e faremo poi le disamine a tempo debito per il momento mi taccio miei cari fate queste cose qua iscrizione condivisione pollice sempre alto a Mark Mand campanaccio pastorale manco a dirlo sempre attivo domani spero di partorire finalmente il ricapitolo sul fantacalcio perché è da tre giornate che appunto non facciamo il punto della sito e domani punto della sito esteso andiamo a vedere recuperare tutto quello che è successo e andiamo a vedere ad oggi chi sarebbero appunto i nove che il prossimo anno con il sottoscritto che è piazzato malissimo farà appunto il fantacalcio tutti insieme qui e poi ne rimandiamo domani ci sentiamo alle prossime chiacchia da barra grazie a tutti